GF VIP7, Sofì e Basciano chiameranno bambina Céline, spoiler di Alfonso Signorini. Lunedì 5 dicembre, su Canale 5, è andata in onda la 20 puntata del Grande Fratello VIP7. Nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha parlato di una coppia nata nella casa di Cinecittà. Quella è composta da Sofì Codegoni e Alessandro Basciano, lasciandosi però andare ad un involontario spoiler. Sofì e Alessandro hanno annunciato che diventeranno genitori. Nella puntata di sabato 3 dicembre. La coppia è stata in particolare presente nel salotto di Verissimo dove ha confermato che si tratterà di una bambina. Durante la 20 puntata del Grande Fratello VIP7 è andata in onda lunedì 5 dicembre. Alfonso Signorini ha ripreso la news complimentandosi con Sofì Codegoni e Alessandro Basciano, Sofì è incinta. Aspetta una bambina e si chiamerà Celin. La nostra Celin. Poco più tardi Giulia Salemi ha però fatto notare a Signorini che Sofì e Alessandro non avevano ancora reso noto il nome della bambina. Incredulo, il conduttore del Grande Fratello VIP7 ha spiegato che la coppia è stata ospite a Verissimo Cosa Crowe aveva condotto a credere che avesse svelato il nome della nascitura in quella sede. Una volta compresa la gaffe, Signorini ha ironizzato, a non avevano ancora detto il nome. Giulia Salemi ha così ironicamente rivelato al presentatore che non gli svelerà mai alcun segreto dato che non li sa mantenere. Su Twitter, non è passato inosservato lo spoiler di Alfonso Signorini sulla figlia dei Basciagoni, nome utilizzato dai fan di Sofì e Alessandro. Moltissimi telespettatori del Grande Fratello VIP7 hanno commentato con stupore, mi sto sentendo malissimo. Un altro utente ha affermato, ma dai, non si fa. Un altro utente ha ironizzato sull'accaduto, Alfonso non si ricorda il nome di nessuno. Ma ricorda il nome della figlia di Sofì e Alessandro. Un altro internauta ha affermato con ironia, e saltata un'altra puntata di Verissimo. Sofì Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti un anno fa, nella casa del Grande Fratello VIP7. Sui sociala 22enne milanese ha postato un breve video mentre effettuava un'ecografia di routine, a distanza di un anno dunque. La coppia non solo avrà una bambina ma convolerà anche a nozze. Alessandro aveva effettuato la proposta a Sofì sul red carpet di Venezia. Dică n'aveam bol, dică nu știai ce un niscol, dică când ascultam gangsta rapper bază pe pistol, dacă nu înțelegi textul suno pe Irina Nistor, vă întâlniți in tristor, la zero grade viscol, nu tac nici stins mort, o să m'auzi prin sol, transpir hip-a prin pori, bile mari din tor, că știi că după trimit ciocan umane, înspre cer și dau jos carul mare, astrologia-l treaba ca urmare. Sunt dus cu capul, dus cu capul, zic jos pătescu, jos ponta, sus cu rapul. Ambiție, tradiție, asta m'a dus cu rapul, decât mai toți ziceau că muzica a pus cu rapul. Și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta, liric vorbința, ajungă la ea doar nasta cu racheta, s-o admire nave spațiale de candromeda